Dottoressa Luisa Marcella, da domani a Diano Marina ci sarà in servizio un nuovo scuolabus attrezzato anche per il trasporto dei diversamente abili. Ecco, lei ha fatto una vera e propria battaglia per arrivare a questo risultato, passando anche attraverso il tribunale, così? Sì, io volevo proprio rilasciare una piccola dichiarazione su questo evento. Come genitori siamo molto contenti, siamo genitori di un bimbo disabile che vive a Diano Marina e siamo molto contenti che sia arrivato uno scuolabus e quindi un mezzo pubblico utilizzabile per le diverse necessità dei nostri bambini che possono avere disabilità temporanee, disabilità purtroppo dalla nascita o comunque anche i bambini normalissimi possono avere un mezzo sicuro e utilizzabile anche perché adesso ci può salire un accompagnatore. Questo per noi rappresenta un felice epilogo di una battaglia effettivamente, o almeno l'abbiamo vissuta così, durata più di due anni, da quando avevamo fatto richiesta di un trasporto scolastico normalissimo per il nostro bimbo ottenendo un diniego subito chiaro e soprattutto evidenziando una difficoltà da parte dell'amministrazione ad affrontare il problema del trasporto scolastico, problema che presisteva da tempo peraltro, nel senso che questo mezzo estremamente vetusto che è deceduto pochi giorni fa definitivamente non permetteva il trasporto anche ad esempio di una classe perché non potendoci salire un accompagnatore il dirigente scolastico non lo utilizzava necessariamente perché metteva in pericolo comunque i bambini quindi anche la scuola non poteva utilizzare questo mezzo non solo, un bimbo disabile, diversamente abile, non poteva salirci e quindi non poteva partecipare agli eventi per noi scontati di socializzazione non potevano essere fatti dei cambiamenti strutturali di questo mezzo perché l'immatricolazione era molto datata almeno così ci era stato riferito e soprattutto si offriva un'eventuale disponibilità a un trasporto disabili che secondo noi non rispondeva assolutamente, vista l'età giovane del nostro bimbo ai principi dell'integrazione e della socializzazione non valutati a nostro parere con l'attenzione dovuta dopo aver chiesto alla consulta regionale dei disabili un parere anche sul loro consiglio ci siamo rivolti ad un legale e quindi abbiamo intentato una causa verso il comune e nel mese di giugno di quest'anno il giudice ha intimato l'acquisto di un mezzo nuovo rispondente alle necessità di tutti i bambini dianesi io credo che comunque questo percorso sia doveroso cioè nel senso credo che un cittadino abbia il dovere comunque di sollecitare di stimolare le amministrazioni perché si risponda alle necessità dei cittadini non a necessità personali ma a necessità collettive in questo caso e quindi veramente siamo contenti che il nostro impegno abbia sortito i frutti dovuti e che l'amministrazione abbia comunque contribuito a un fiore all'occhiello al nostro comune perché effettivamente un mezzo di questo tipo è secondo me un fiore all'occhiello del quale vantarsi grazie 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 grazie